Oggi siamo qui a presentare gli ultimi acquisti del Perugia. Alla mia destra abbiamo Giovanni di Noia e alla mia sinistra Stefano Minelli. Giovanni di Noia, penso che avete scritto tanto in questi giorni che lo conoscete abbastanza bene come Stefano Minelli, è un centro capista che proviene dal Chievo, è un giocatore molto utile per quanto riguarda quel ruolo, può fare sia il centro capista centrale che la mezzala sinistra. Il curriculum parla da sé, è un giocatore che ha fatto categoria importante e siamo contenti di averlo a nostra disposizione. A sinistra abbiamo Stefano Minelli, un portiere che avete scritto tutto in questi giorni, nonostante abbia 26 anni che per un portiere si può ritenere un'età giovane, ha una grandissima esperienza con quasi 150 presenze in B. Perciò è stato sempre un portiere di livelli importanti. Siamo contenti che si è questa trattativa all'ultimo minuto perché anche lui ha spostato il progetto Perugia con entusiasmo e soprattutto con voglia di mettersi in gioco. Lascio la parola a loro. Francesca Amincacci, La Nazione, volevo fare una domanda di noia. Volevo chiederti, avevi lasciato la Serie C da qualche anno per giocare in Serie B, come mai la scelta di ripartire da Perugia e appunto dalla Serie C? Grazie mille. Allora, ho deciso di venire a Perugia per rimettermi in gioco e anche perché Perugia è una piazza che non ha nulla a che fare con questa categoria. Quindi sono venuto qua con tanta voglia di riportare il Perugia dove merita e speriamo alla fine di riuscirci. Buongiorno ad entrambi, sono Carlo Forciniti del Corriere dell'Umbria e chiedo a tutti e due cosa vi ha colpito di più di questi primi giorni nel Perugia e anche nello specifico cosa vi ha chiesto Caserta in queste prime sessioni di allenamento. Grazie. Buongiorno a tutti. Quello che mi ha colpito più di tutto è il gioco che ci chiede il mister. Diciamo, io che sono un portiere mi chiede tantissimo di giocare la palla e fa piacere anche essere così coinvolto e l'importanza comunque del ruolo che vuole sempre che si parta con la palla da dietro. Quindi c'è una maggiore responsabilità che magari in altre squadre non hai. Buongiorno. Sinceramente mi ha colpito molto il gruppo perché è molto compatto. Tutti quanti abbiamo in testa un obiettivo da raggiungere. E niente, il mister invece ci chiede molto di giocare la palla, di proporci, di essere un po' propositivi ed è un calcio che a me personalmente piace. Quindi poi penso sia visto già da domenica che ha portato ottimi frutti. Antonello Ferroni messaggero. A Giovanni Di Noia volevo chiedere se ci conferma che diciamo le sue attitudini sono quelle di jolly, cioè di un giocatore che può ricoprire più ruoli, non soltanto quello principale di mezzala sinistra ma ho visto che è stato utilizzato in più posizioni nel campo. E se ci conferma, noi lo conosciamo, abbiamo visto giocare qualche volta alcuni da avversario, ma insomma se ci conferma che appunto le sue caratteristiche sono anche quella di andare alla conclusione, di avere un buon calcio, ma anche di essere un giocatore che è importante nella fase difensiva. Grazie. Sì, diciamo che mi adatto un po' a diversi ruoli, quindi riesco a ricoprire anche il ruolo di terzino, anche d'esterno a sinistra e diciamo che sono abbastanza d'utile. Poi nelle mie caratteristiche c'è l'inserimento e ovviamente cerco la conclusione appena appena un po' di spazio. Buongiorno, Daniele Orlandi, Tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia. Per Stefano Minelli, l'anno scorso eri al Padova e hai giocato anche parecchie partite, un 26 mi pare. Quest'anno hai iniziato la Stagione a Paroa, quindi conosci bene questo girone, conosci anche le potenzialità della delle avversarie del Perugia. Ecco, volevo chiederti di dirci quali sono secondo te i rapporti di forza tra le pretendenti al titolo di questo girone. Mentre a Giovanni Di Noia volevo chiedere qual è il tuo livello di forma, in che stato di forma sei, perché Caserta ha detto che ti aspetta, ti aspetta anche con una certa ansia, ma vuole che tu sia al massimo. Dovessi dire una percentuale della tua forma attuale rispetto al tuo potenziale maggiore? Che percentuali diresti? Grazie. Innanzitutto a Padova sono stato fino all'anno scorso che abbiamo fatto le finali play-off e quest'anno ho fatto gli ultimi due mesi che ero alla SPAR perché conoscevo il direttore e l'allenatore. C'è stato un caso di Covid da parte di un portiere, quindi mi ha chiesto di andare a aiutare. Le pretendenti al titolo penso che quest'anno ce ne siano tantissime. Ho seguito un po' la Serie C perché giocavo fino all'anno scorso a Padova. Sicuramente oltre a noi ci sono parecchie squadre. Penso che ce ne saranno 4 o 5. Alla fine c'è su Tirol, c'è Padova. Comunque c'è pure la Triestina che è un ottimo organico e senza dimenticarsi del Cesena, la San Benedetti, la Feralpi. Diciamo che il campionato DC è lungo, poi non bisogna sottovalutare nessuno perché avendoci già giocato l'anno scorso veramente puoi perdere, puoi perdere con chiunque. Sono sempre partite difficili. Allora diciamo che la mia condizione fisica è buona. In questi mesi ho giocato poco, quindi diciamo che l'unica cosa che mi manca un po' il ritmo partita è un po' di minutaggio nelle gambe, però penso di essere a un buon livello in questo momento. Ovviamente tutta la settimana mi alleno in maniera da poter aumentare il mio rendimento, quindi spero a breve di arrivare al top della forma. Per Stefano Minelli una domanda che sorge spontanea. Come mai questa scelta di venire a Perugia in Serie C quando comunque con la SPAL si lottava per un per la vittoria del campionato nello stesso modo? Immagino che ci sia la possibilità di giocarsi il posto da titolare. Grazie. Allora diciamo che alla SPAL era un po' chiuso, appunto sono andato là perché c'era portiere titolare Beriscia che aveva il covid. Poi una volta preso dopo qualche settimana è guarito, quindi è rientrato lui. C'erano pure delle situazioni di mercato, però è rimasto lì e quindi non vedevo l'ora di mettermi in gioco, di andare a giocarmi, perché non sono abituato nella mia carriera. Non ho mai fatto, diciamo, il secondo, quindi non sono abituato e sono venuto qua sicuramente per giocarmi. Sì, sempre per Stefano, volevo chiedere se nella tua carriera ti sei mai ispirato a qualche portiere famoso. Enrico Fanelli a cipelugia.com e tifogrifo. Se hai un modello, insomma, da imitare. Grazie. Allora, non essendo tanto alto per essere un portiere, diciamo che mi ispiro tantissimo a Giulio Cesar. Credo che quando era all'Inter era un portiere incredibile, era completo. Nonostante l'altezza faceva delle parate mostruose, quindi mi sono sempre un po' ispirato a lui. Negli ultimi anni ci sono diversi portieri. Ormai il ruolo è un po' cambiato, che tanti magari ti chiedono di giocare fuori dall'aria, come si vede magari spesso con Neuer. Anche se personalmente il portiere è uno che mi ha sempre ispirato negli ultimi anni è Oblak dell'Atletico, ecco. Allora, anche a Giovanni Di Noia chiediamo la stessa cosa. Cioè, se c'è un giocatore a cui si ispira, quali sono i suoi modelli? Insomma, grazie. Beh, direi che di certocampisti nella storia del calcio ce ne sono tanti, però a me è uno in particolare che mi piace, che mi è piaciuto. È stato Cambiasso, soprattutto ai tempi dell'Inter. Mi piaceva il suo spirito, piaceva anche come giocatore, come tempi di inserimento che aveva da mezzala. E poi ho seguito anche Bidal quando era alla Juve, che comunque è stato un giocatore importante e ha fatto la differenza in quegli anni. Poi ovviamente cerco di prendere il meglio da ognuno vedendo spesso partite di calcio, quindi cerco di capire al meglio i loro movimenti. Posso dar genio vivicentro per Minelli? Sì, sì, vai, vai. Sì, no, visto che è venuto per giocarsi il posto, chiaramente da titolare. Ho visto però, mi correga se sbaglio, il contratto fino a giugno 2021. Lo scopo è quello di cercare di fare bene per rinnovare poi in un secondo momento qui a Perugia o per lanciarsi definitivamente anche? No, diciamo che il mio scopo già dall'anno scorso che quando sono sceso in C col padre era quello di riconquistare la Serie B. Quindi sono venuto qua perché credo che questa piazza e questa squadra meriti di meglio. Ci credo tantissimo alla promozione e ormai so che per arrivare anch'io, diciamo, per ritornare in Serie B è meglio arrivarci dalla porta principale, cioè è meglio vincere il campionato e guadagnarci una conferma qua. Non penso che sono venuto qua per mettermi in mostra perché sia un trampolino, ma sono venuto qua per conquistarla sul campo. Per Di Noia, nel tuo passato c'è stata anche la Ternana, sai che qui c'è grande rivalità tra Perugia e Ternana. Ti chiedo se in sede di trattativa hai anche pensato insomma il tuo passato. Grazie. Sinceramente mi aspettavo una domanda sul mio passato alla Ternana, però no, non ci ho pensato anche perché Perugia è una grande opportunità che mi è capitata e quindi l'ho voluta cogliere al balzo. È una società importante che si gioca a qualcosa di importante e penso che più stimoli di questi non ci siano per venire per Perugia. Sempre per Stefano, io mi ricordo una partita a Brescia-Perugia di cinque anni fa che tu propiziassi la rete del pareggio del Brescia all'ultimo secondo. Volevo sapere cosa ricordavi di quella partita, insomma? Sì, sinceramente quando sono venuto qua non mi ricordavo, mi è tornato in mente proprio stamattina parlando con il magazziniere. Diciamo che è stato un picco d'emozione che ho provato, non l'ho mai provato forse nella mia vita, la provi magari parando il rigore verso la fine. Diciamo che per un portiere non è proprio abituale salire agli ultimi secondi. Vabbè, ero a Brescia, ero a Bresciano, quindi è stata una gioia incredibile. Penso che una cosa così ti capita una volta su mille. Anche se è stato l'assist, spero che prima o poi magari ci scappi pure il gol, ecco. Portiere e mezzala, se non sbaglio, entrambi i mancini? Confermate? Sì, 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 confermo. Curiosità, non capita spesso neanche questo. Ok.